Allora a tirare, a fare il tirassone. Castello Sanfili, secolo XVIII, quindi 1700. Complesso costiero, formato, cilindrica, con triangolare, facente parte del dispositivo di guardia contro le incursioni saracene e turche. Terrazza, con terrazza triangolare facente parte del dispositivo di guardia contro le incursioni saracene e turche. Iniziano ad andare di là. Quindi è una cosa molto più antica di quanto... sì. Cioè è una cosa molto antica. Spero di sì. Poi probabilmente ci sarà stata... allora penso che sia stata restaurata, Marco. Non? Penso di sì. Restaurata dai futuri abitanti, cioè... Sì, è un certo... portami bene, Marco, non è più grande. Ci sono sempre andate. C'è anche la terrazza. Comunque, cioè, è impressionante. Eh, non so che cosa. Allora, guarda... guarda questo. Questo qui è cannucciato. Praticamente... ma pensa te. Allora, per far aderire l'intonaco sulle volte... Praticamente facevano un graticcio fatto con le canne di bambù, in maniera che poi facevano una specie di controsoffittatura. Questo qui, invece, è una specie di cannucciato, ma... ma fatto con... non so, sembrano delle foglie intrecciate, non so. Molto carino. Pensa a terra. E poi hai visto... hai visto che ci sono... sono legate delle cose con dei... con delle canne di bambù? Sai che cosa serviva questo? Forse per... per tenere il controsoffitto. Forse questo qui è una parte che si è tolta e qua sotto c'è un altro controsoffitto. Probabile. Probabile. C'è un ciminiere. C'è... questa è... questa è strada. Guarda che roba. C'è un canino che fa subito un angolo. Ma io roba. Questo è 28. Qui c'è un cuore. Beh... che dire... Guarda qualche volta, di particolare, fatta in... in pietra e... Cocciopesto. C'è un cartone. Tu vedi? Non è cociopesto questo. No, sto scherzando. Però questo, vedi che è stato proprio... Secondo me è stato... cioè, sicuramente. Non dai beni culturali. Tu vedi, Marco. Tu vedi. Solamente quella tavella di... Quella di sin tavella. Quell'asse di legno. Non è... è nuova. Ah, ok. Anche questa parte qui... Sì, sì. C'è... No, restaurato nel senso che tipo non ci sono scritte, capito? In questo senso, dico, non è stato restaurato. Vedi come è tenuto ma... Cioè, che scritte... Quello volevo dire. Non è mantenuto. Ma no, non c'è un... Però diciamo che dal... Non c'è una profonda stratigrafia. Sì. Ma tu guarda che bellissime queste... Ci sono preservativi... Carte di preservativi. Quindi è bellissimo per quello? No, non è per... Io mi... Sai che mi spacco quanta cosa. Vai, vai. Che ce la fai? Di là era... Non so che. No, a Bilano non bisogna andare. Ci sono dei cristalli che prendono... Saliamo. Le cose indegne. Ti parte un po' paura, sinceramente. Vieni qua. Ci dobbiamo arrampicare? No, Matteo. No, no. Ma ti sta arrampicando. Vabbè, ma con gli infradinti ogni volta. Ma sono scale, dai. Ci vuole... Guardate, vedi? Questo è battuto di cemento. È classico. Sono scale, dai, Lino. Sottira. Ah, ah. Hai visto? Sottira Andrea. Guarda quando è bell'umore. Tanti mali, mi ha detto che si può risulturarla e farci una villa. Un agriturismo. Un agriturismo. Credo che queste cose qua abbiano avuto uno scopo particolare. Probabilmente qua. Eh? Guardate in un'altra vista particolare. Lì c'è un'altra parte. Lì c'è la torre, lì a destra. Esatto. La vedi? Probabilmente, quasi sicuramente, questa qui doveva essere bucata e vedi di là che la torre. Quale altra torre c'hai qua? Qui c'è. Allora. Dove? Qui vedi che doveva essere bucata. Guarda. Questo doveva essere bucato, non questo. Qui vedi da qualche parte. E lì vedi la torre, l'altra parte. Ah, la torre a destra. Non è un caso che ci sia questo abiturismo. Eh. L'ultimo piano. Dov'era qua. Eccoci. Eccoci. Non c'è bisogno di fare un pisco se cade, se sente. Dun 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 dun. Hoppla. Che bello. Posso cantarsi giù. Un'altra volta. E dai un castellino. Vedi? Dai la chiesa. Che devi farla sotto. Devi farla sotto. Sì. è male ok Emilio zio Emilio zio? Emilio zio Emilio zio